La Banca Popolare di Bari avrebbe riservato ad alcuni soci trattamenti di favore nella rivendita di azioni. E quanto emerso ed è stato evidenziato nell'ordinanza che ha portato all'arresto degli ex vertici dell'Istituto di Credito Pugliese, tra quali l'ex presidente Marco Iacobini e suo figlio Gianluca, ex codirettore. Nello specifico si legge negli atti, non pochi dubbi sono venuti a galla sulla linearità con cui alcuni soci di riferimento, tra cui la Debar e S.p.A. hanno effettuato alcune manovre in merito alla cessione di un consistente lotto di azioni della Banca Popolare di Bari nel mese di marzo del 2016. Dalle società facente capo, la famiglia De Bartolomeo avrebbe ceduto titoli per 4 milioni di euro prima della svalutazione. La Debar è riuscita, grazie all'annullamento della prima asta e al conseguente ripristino manuale delle priorità riportato negli atti, ad alienare 430.000 azioni per un controvalore di 4.097.900 euro, tutte acquistate dal gruppo assicurativo Aviva. Ciò induce a sospettare e rileva il PM che i vertici della Banca Popolare di Bari, da un lato, possano aver riservato al socio un trattamento di favore, consentendole la liquidazione dell'investimento azionario di un prezzo ancora appetibile, di lì a breve abbassato. Dall'altro abbiano consentito al gruppo Aviva di entrare pesentemente nella compagine sociale della stessa Banca Popolare di Bari. Non si esclude pertanto evidenziato negli atti in esito di un preordinato sistema di patruzioni.